Per combattere il tumore al colon retto metastatico due armi sono meglio di una. L'associazione di un farmaco bersaglio molecolare e di un immunoterapico può arrivare a raddoppiare la sopravvivenza dei malati che rispondono meglio alla cura. Lo dimostra una ricerca tutta italiana presentata al congresso europeo di oncologia e noi ne parliamo con Gianluca Masi, professore associato di oncologia medica all'università di Pisa. Professor Masi che messaggio ci arriva da questo studio tutto italiano che è stato presentato all'ESMO appunto pochi giorni fa? Uno studio sicuramente molto interessante perché parte da un razionale scientifico assolutamente valido che è quello di provare a portare si dice l'immunoterapia dove non funziona in realtà cioè nel tumore del colon che non abbia l'instabilità dei microsatelliti. Questa è una grossa sfida ci si prova ad arrivare combinando le altre terapie che abbiamo con l'immunoterapia. In questo studio si combinano due anticorpi il cetuxime e la velumab, il cetuxime e l'anti-GFR che però è un anticorpo che ha anche potenzialità diciamo di stimolare il sistema immunitario e appunto combinandolo con l'immunoterapico che è la velumab si è provato a studiare questa combinazione in un setting di per sé anche abbastanza difficile. I pazienti già trattati con chemioterapia, selezionati per poter beneficiare dall'anti-GFR, già trattati con l'anti-GFR, come terapia cosiddetta di recelage, cioè dopo che il paziente è progredito ha fatto un'altra terapia viene ritrattato con l'anti-GFR e in questo caso introducendo anche la velma quindi l'immunoterapia. Gli spunti interessanti sono molteplici, intanto per la prima volta si dimostra che questa combinazione è fattibile che è sicura dal punto di vista della safety con risultati promettenti soprattutto in termini di sopravvivenza, un dato molto molto interessante. Ecco cosa ci dicono i dati di efficacia, professore? Allora, consideriamo che è un studio di fase 2, cioè monobraccio, quindi sicuramente è la base per poi investire in studi randomizzati, però il dato che colpisce di più è sicuramente la sopravvivenza, che è una sopravvivenza molto interessante di 13 mesi e c'è un altro dato anche molto interessante che è stato l'aver valutato in questi pazienti il DNA tumorale circolante andando a ricercare appunto quelle mutazioni che ormai sappiamo essere di resistenza acetuxima sul gene RAS e BRAF. Si è visto che in questi pazienti che sul sangue circolante non avevano mutazioni, il beneficio è ancora maggiore, addirittura la sopravvivenza arriva a 16 mesi in un setting, ripeto, di pazienti già fortemente pretrattati. Quindi potrebbe essere uno spiraglio per l'immunoterapia anche nel tumore del colon retto? Sicuramente sì, chiaramente richiede ulteriori ricerche, andrà sviluppato, andrà capito meglio se ci sono sottogruppi di pazienti, se questa combinazione è sufficiente o se bisogna, ad esempio, a Pisa stiamo sviluppando in prima linea però una combinazione con chemioterapia, folfoxiria, velma, vecetuxima, quindi andare a mettere tutta l'armamentare, tutte le armi migliori, fin dalla prima linea proprio per vedere di slatentizzare il più possibile la risposta tumorale e anche, diciamo, una sufficiente risposta immunologica.